bentornati a questa penultima live di fraggia zero e andiamo avanti no, è la terza ultima, perché sono 14, è uguale, altre 3, va benissimo andiamo alla ricerca, Iori non ha più la sua camera allora no, eccolo, il posto più brutto dell'universo ok, è la foto quella lì, in realtà quella eravamo noi, la piccola non volevo aprire, scusi, aprire ok, adesso andiamo a fare una visita a mio e la mamma il mio non c'è, il mio non c'è, il mio è così che dorme, tranquillamente scusi, signora Iori ok, librerie bellissime salve, dal laboratorio, no, scusi beh, se tu mi dessi la mia camera, cara mio, forse si potrebbe pure fare buongiorno buongiorno ci avrà ridato la nostra verità, oh grazie a Dio allora, attenzione potenziare la full è appena iniziato, non ti preoccupare tutto ok, dai ci siamo aperte, ci siamo appena svegliate ok, dobbiamo andare a shine ci siamo appena svegliate, quindi siamo un po' rincirulite ci tocca questo brutto posto del cavolo e il livello dopo è ancora peggio se mi ricordo la strada forse c'è a Dio, sì ok, e 90 iniziamo subito quei pezzi forti ho sentito un bello sbadiglio qui non si passa questa è chiusa ok, questa è aperta opriti allora eh lo sapevo questo livello io l'ho odio dov'è l'altro giusto burro detto di no e andate via non deve aver messo un coso che non lo posso guardare sono i orinagliori dai vede correre non deve camminare direttamente esattamente questo gioco zampetta non corrono ho detto no ho uno è morto proviene di portare in vita a me lo trattengo la prima di portano verde sei morto e basta maledetto mannaggia è normale ciccio allora qua c'è un pezzetto di carta dedication ah beh tre pilastri eh ma perché loro non ci sono spaventati capito perché sono ormai yuri è abituata no ma pure nei primi no ah beh nei primi non correvano mai ah se vedi che ci hanno perché nei primi pure loro c'erano il potere per vedere cose sì 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 ma non correvano cioè la loro corsa era una camminata sul posto ok bene la mirror stone guarda se questa corre ehi mai ehi come va avrò aperto sta porta sì oh meno male riusciamo a andare dove dobbiamo andare forse fantasmi permettendo ovviamente ok apri porta ma qua sicuramente fantasmi nessun fantasma sono sicuri che è successo attenzione nessun fantasma un miracolo hi mi a mi si il ovviamente sempre di più no dentro al coso mortuario no 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 io non vi cerca, non faccio niente se no qua non vorrei che arrivasse qualche simpaticone oh eccoci qua eccola qua signorina ovviamente uno scritto abbiamo capito che queste sono di oser no no ecco un'altra Kurosawa dai no Kurosawa no ok mi dice che è qua sopra è piacere hai mannaggia la gatta volevo fare la foto da signora non a te eh mi dice mi dice mi dice questo c'è il suo coso c'è la sul coso lì su tre di quei aria andiamo gatto che c'è non può muzzicare che c'è chi c'è mh lo sa cazzo il gurellone di qua è mancato malissimo no pecca sei morto fatti toccare fatti toccare non so molto simpaio dicevamo andiamo a mettere la prima cosa di qua se sono due come vedete bene no non è neanche di qua è uno con la camellia andiamo a vedere dove io che dovevo andare con la barca non puoi andare con la barca signorina perché non è aperto il passaggio scusate mi ha dato il naso quindi qua ho visto un oggetto mia ora ok ok questo è un oggetto bene ok no lo sapevo molto bene c'eri tu ops è un oggetto ecco questo controllo se voglia non so perché sto parlando danno ho dovuto mettere quelle altre da cina ci abbiamo poco tempo da spartire qui su dai signora ok dai si fa scatto un po' quando è successo che ci siamo bagnati tutti mi sa quando ci abbiamo incontro ok dovremmo andare dove sta la porta penso che dovrebbe esserci qui una porta che si posa è fatta visto eh fantasmino troppo tardi e vabbè e vabbè poi riprenderò tutti i fantasmini non è un problema poi c'è una cosa brutta brutta salve di nuovo riechi video nam io qua su ciccione su non potresti adesso adesso vabbè e indietro vabbè è morto è morto molla molla nadro andiamo andiamo altruora fantastica d'ora ho già detto ho detto che c'è un'altra porta che va aperta con questi stemmi altrove lo sapevo salta beccata lo sappiamo lo sappiamo signorina iuri ok signorina maiden proleviamo la maiden che vuol dire no romeo oggi è particolarmente agitoso non si sa perché no molla romeo la pappa cattivone chi è il cattivone c'è un'altra cosa da prendere in modo magico ciccino dove vai ancora un altro questo qua ci serviva maledette le cose gli insetti europeo sono io che sbadiglio sono io che sbadiglio è maria sbadigliare e poi ci sono dei poveri pirla come questo abbiamo un'altra di queste cose una è quella dorata per la porta di sopra mentre l'altra non ho idea di dove vada sono scelta sono scelta a svegliere avbrucamente vieni ancora oh signor fantasma vieni signor vieni qua guardate 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 Sì, non è vero. vabbè io vengo sempre svegliato in maniera brutta da gatto io no perché per me il gatto è il massimo di poterlo e io vanno a scopo e io vanno a scopo io vanno a scopo e poi vanno a scopo e poi ci sono dei primi luci e io sono un po' di più e poi mi ricorda mi fia me fia ma io sono un po' di più Signore, vieni tu. Su. Ma faiate, vabbè succede. Che hai visto? Non ho mai visto un tasmino. No. Signore col tasmino. Che fai? No, io sono con il cane, no. Signore, io ho fatto signore col tasmino in giro. Ecco. Poi per lei non ci arrivo mai. Tristamente. Eh no, infatti quello non funziona. Dovremmo fare qualche suono, ovviamente. Eh sì. Apri sta porta signorina, su. Allora. Lei ovviamente mi indicherà tornare dove sta la barca. Perchè siamo forrati, c'è? No. Allora. Allora. La mappa, grazie. Qui viene da là? Qui no. Oh. Ok. Bello. Questa no. Prima. Sotto. Sotto. Qua. Allora. Dove stavi prima che hai mancato la chiave. Garden Halley. Garden Halley. Allora. Scusi eh. Ah ok. Ho capito l'esterlo. Da qua. Allora. Allora. Vorrebbe essere così. Vediamo un po'. Un po'. Lo vediamo. Mmh. Visto. Sobra. Allora. Non ho il posto. Non ho il posto. Mamma mia. Eccola un'altra. Sì. Anche perché se io facessi un... Un suono per il sonno sarebbe talmente pauroso che non lo potessi mettere mai. Sarebbe fantasmoso. Un fantasmoso. Perché non è formaggioso va bene? ok allora la porta è qui da qual è la tua tua pesca? questa? apriti oh quanti belli le viare c'è un oggetto? si eccolo qua ora appaiono i fantasmi questo è ancora più bastarda di stanza ma io non lo voglio aprire questi senza potere non devono essere messi nel giro eh grazie quelli che si sono cosati l'anima sporcati l'anima e non avranno una morte appropriata eh no se metti uno debole verrà sopraffatto no grazie grazie non lo sapevo non l'avevo capito è sempre così oh meno male non sono usciti i fantasminini i fantasmosi ok abbiamo aperto sta porta per? per fare cosa? torniamo andiamo a vedere questo muro mi pare un po' sospetto ma non guardiamo un muro che è meglio scusi c'è un batasma? no si forse no solo due oggetti ok bene si iori l'avevamo capito che questo è il il coso del coso il pozzo che porta a quello che sappiamo scusi prendi sto regalino iori ok carini ci fanno pure i regalini oh questa si questa è una signora lente è una lente rossa credo si questa qua allora questa qua quando c'è da poco a capire ragazzi la vita va bene appena io tocco questo bang andiamo giù e ora andiamo indietro che bello questa casa è gigantesca mi ricorda qualcosa mi ricorda un pochino le case del 2 che sono grandi mamma mia non fantasmi please eh infatti che scatole lo sapevo io lo immaginavo signorina la prego la prego di toglierti per esempio che è il tazzo zona signor signor e si leva no no lo volevo evitare no volevo evitare di spiegare il mirror ma io odio questa stanza odio questo fantasma odio questo fantasma è una manzone è cala oh signor fantasma signor questa stanza è fastidiosa morte come sta signor si toglie vieni via davanti a me su muori grazie oh io odio odio questa stanza odio dover fare questo questa questo tragitto dentro che passi per quella stanza mamma mia ora siamo tutte fragile uffa ok 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 ora andiamo a mettere uno di due emblemi dove? quale porta? è quella poi dovremmo cercare Questa stanza no Appunto Uffa Sempre nelle stanze quelle piccole rompiscatoli Dai su Vieni Vieni qui Vieni qui Lasso I Vieni qui signore ti voglia? grazie romeo grazie grazie ok miseria io forse dovresti sgrullarti tipo cane ok qua sopra c'è uno di cui da mettere no? non li metti? capisco allora devo andare a metterne un altro credo forse ce ne ho uno non mi ha dato la mappa per quello che ho preso no? vabbè hai fama? amore? vai presto avete sentito micio micio che fa una cosa dobbiamo andare a prendere quello che ha il sacco che è caduto il sacco perdono dove stava il sacco? di qua di qua sacco sacco amore di mamma tu mangio le 11 vero ciccetto? eh lui alle 11 no lui adesso si è abituato alle 11 ormai ciao amore dove vai? di qua eccolo la l'oggetto ha deciso che gli devo fare da sedia salve signor mortissimo no? chiave del riviario dovrebbe essere il box che abbiamo visto dove stavamo sotto nelle prigioncine quello la aia romeo si vero amore? eh esatto sempre vive amici lui fa pure mezzia rosa vero? 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 no non si sente perchè lui mi compra in basso è in alto e lui in basso è in basso vero amore? non si mangia, non si mangia la cosa mi fai giocare Romeo amore di mamma vai grazia su Romeo fai hand bump allora dobbiamo andare si infatti Romeo e niente si sta strusciando su tutti noi allora noi dobbiamo andare al rileviario che è amore di mamma sotto si passa per la camera d'acqua quindi dobbiamo andare dall'altro lato un po' stortino ma va bene è di qua decisamente di qua allora questo no che pesa fanno ragionare con fiscatole addio non mi morri mi morri la frente questa cosa non mi fa ragionare mentre sto ragionando fantasmi formaggini adesso lo immagino dentro i muri sono fantastici va bene è scappato vabbè fantasma simpatico ok dobbiamo andare di qua tentativamente ciao ciao aspetta che ti muoge allora gira di qua allora questa dove porta non mi ricordo mi pare dove dobbiamo andare noi no no sto facendo il giro di Peppa intorno al reale bello di mamma si infatti guarda lasciamo perdere io ho avuto delle brutte esperienze con persone che volevano male ai gatti lasciamo perdere andiamo Iori Iori mi dice dove andare ovviamente non sempre però però giriamo di qua no andiamo bene di qua di qua credo vai proprio amore di mamma ok si di qua dobbiamo andare dove stavano le le signorine fantasmini io apro sempre queste porte adiacenti l'apri porta no mannaggia dopo un po' mi perdo purtroppo siamo nella via giusta ma mi perdo vero ok ok non è qua così andiamo dentro alla cosa dell'acqua mi fa sicuro che dobbiamo solo salire in realtà come da mappa sì no infatti dobbiamo aprire questa prendere questa e andare di su guardate come ci sono i fantasmini qui dentro eh infatti sono tutta inzuppata d'acqua no meno male allora vale lato forse da uno buta allora corri 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 che andiamo a aprire il box qui apriti amore che fai vieni da mamma no che fai Grazie a tutti. 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 alle sempre allegri queste queste cose c'è un oggetto ma di fare l'immagine ti pareva fantasminoso ma con la fantasmino ovviamente la vataglia poteva essere solo questa così la ea che tu gira tre pilastri tre pilastri collassano ma ne prendo un altro cinque non ho capito fantastico match the photo match the photo faride o dovrei andare a cercare quel posto dove si vedeva ma che pizza è su signore uno può cercare cose in pace e se ne vado lo tocchiamo senza quale addio dobbiamo cercare dicevamo il giardino da cui si vede il tori dovrebbe stare nel giardino però però non mi ricordo come ne sapeva questa pure può aprire no 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 e a chi ora sta giardino questo quindi dobbiamo andare al rovescio ho sbagliato è qui sotto ok penso di aver finito probabilmente tra poco ciao allora dobbiamo andare qui a punte quindi dobbiamo andare questa proprio quella dove c'era il pompi scatole che c'era dietro qua allora vediamo qui è un po' arrivano i fantasmi lo so benissimo no bene meno male ok ok qui finalmente devo uscire apri questi dovevo fare un'altra cosa e si potenziale la camera allora questo danneggia no non c'è dio va bene le tengo per dopo allora questo bisogna trovare un'altra statua da girare papà si amore mannaggia la miseria non mi ricordo il stadio da girare aiuto romeor adesso volo via un po' Grazie. La foto che dobbiamo matchare è il vittoria per... cioè cosa per... Ah, mmm... Dove sai rompiscatola? Ma, vedete, ah, su! Ok, è morta. Quindi... Touch, no? Ok, così andava fatta. Guardi l'ho da aprire. Oh, è aperto! Oh, yes! Che la metti? Ah, speriamo di non dover fare anche il Tempio. E invece... A le... Ci tocca pure questo. Che bello! Avrei preferito di no. Che bello! Prima di te fantasmioni! Compa! Fantasmi è simpatico? Sempre, è simpatissimo! Averti! Apri la porta! FANTASMI per tutti! FANTASMI per tutti! Meno male che esiste! Ecco, da lì i fantasmini formaggini! FANTASMI per tutti! Finora! FANTASMI per tutti! Signora limone! Su! Dai signora, su! C'è il boss che ci aspetta! C'è il boss che ci aspetta! Vado! Moro, è normale? Sì! 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 Ok! Ok! Oggettini oggettosi! Sì! Dov'è? Sì! Sì! Lo sapevo benissimo! Ok! Ok! No! Vi metto da zero! Ok! Ora! Campane! Altri film! Oh! Sta mano malefica! Smollami! Meno male su quelle rosse! Sì! 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 Facciamo a sentire queste campane! Di mamma! Sì! Sono le campane! Ma arriva il boss! Buon Lizzo! Su, buon Z! Allora! Altri film! Sì! our! Altri film! Sì! buono sempre buono tanto ricorda molto un livello di neo questo guarda curva molto pare sì ora andiamo a prendere l'oggettino è un'altra mirror grande venire rosso sempre buona posso schifare il nemico oppure dovevo per forza forse è doggo non mi ricordo comunque sia ragazzi forse c'è un boss diverso in questo momento sì le signore apri il boxetto e ritroviamo la nostra gioca dove voglio andare edu No, non ci credere nemmeno Io riguardo la tua decisione Brava No, non ci credere nemmeno Non ci credere nemmeno Non ci credere nemmeno Non è vero Non sei solito Sono qui con te Per favore Stai con me Anche se fosse solo per un tempo Solo un po' più lungo Brava Do you remember that time? The promise we made? So Just stay for a little more Signor Eh Trasformata a caso, va bene Fantastico Ma non l'affrontiamo qua dentro Vabbè Uguale Ma non è il damage Cambiamo una Cambiamo cose qua Il damage Il damage Il tultimo Il tultimo Moo il Negol Prova! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Si diverte? E' divertente signor? Immagino si è divertente signor Aspetti eh, c'è una cosa che devo fare Enchantment Ok 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 La ilusione per la mia mi sei ha già signo le paremmo me e ora signor formagino si fa toccare non si fa toccare triste formagino tieni qui oh ok ecco una ragazza che conosce poi soga è andata a suicidarci e lei la pista ops è andata a suicidarci la cosa è andata a suicidarci 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 ok dovremmo aver finito manca poco sì sì è andata a suicidarci 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 e anche questo capitolo l'abbiamo completato dire è andata a suicidarci direi proprio che per oggi finisce qui ci vediamo e ci vediamo forse domani e grazie per la prossima e alla prossima grazie a tutti